Il lunedì mattina siamo con Peppino Tagliente che chiaramente sta leggendo i dati dei risultati delle europee, per adesso abbiamo solo i risultati delle europee, nel senso che quelle della provincia e quelle dei comuni nei quali si è votato, i risultati li avremo stasera perché lo sfoglio inizia alle 14, però diciamo che i dati che abbiamo delle elezioni europee sono quantomeno sufficienti a fare una prima analisi politica che riguarda sia l'Italia e sia il nostro territorio. Allora Tagliente, partiamo dal dato del PDL a livello nazionale, lei è soddisfatto? Non per usare espressioni di soddisfazione di circostanza come spesso accade all'indomani delle elezioni da parte dei rappresentanti di partito, ma devo dire in maniera assolutamente convinta che sono soddisfatto perché se il problema era, perché questo poi era, il governo ha trovato il gradimento da parte degli elettori, i risultati nello specifico dell'azione di governo sono stati ritenuti positivi o meno? Devo dire che la domanda alla luce dei risultati trova una risposta affermativa, non soltanto perché il PDL aumenta in voti rispetto alle europee precedenti, rispetto alle scorse consultazioni elettorali, ma perché la somma dei voti del PDL e del PDL della Lega ci porta ad un credo 45% che credo sia la prova provata dell'assoluto gradimento da parte degli italiani nei confronti del governo Berlusconi. Qualcuno dirà, ma il PDL, anzi qualcuno ha già detto, ancora prima che i risultati fossero definitivi, ma il PDL segna una battuta d'arresto rispetto al voto delle politiche dello scorso anno. Direi che innanzitutto non si devono confrontare dati omogenei, cioè voglio dire il dato delle europee deve essere riferito al dato dell'Europa precedente, il dato delle politiche va riferito al dato delle politiche, ma seppure, voglio dire, fosse possibile, fosse possibile, ma seppure si volesse in qualche modo facendo violenza ai dati, alla storia, diciamo, delle analisi politiche, beh, bisognerebbe tenere conto che in questa campagna elettorale, per esempio, non si possono computare i voti dell'MPA, che pure, voglio dire, ha preso un 2%, che quindi andrebbero computati nel 35% del PDL e lo porterebbero al 37%, ma voglio dire, sono tutti azzardi da un punto di vista, come dire, del commento elettorale nel quale non voglio cadere, un tranello nel quale non voglio cadere, mi limito a leggere le cifre che confermano praticamente che il 45% degli italiani ha detto sì al governo Berlusconi e, scusate se è poco, insomma. Venendo invece al dato nostro territoriale, venendo al dato nello specifico della città di Vasto, abbiamo un PDL vicino, diciamo, al 39%. Sì, il che significa che il PDL registra un aumento nella nostra città, nella città di Vasto, sia rispetto alle europee, sia rispetto alle europee della volta precedente, sia, voglio ricadere nel giochetto che prima, voglio dire, comunque contestavo, sia rispetto alle regionali di qualche mese fa, sia rispetto alle politiche dell'anno scorso. E allora, seppure si volessero confrontare questi dati omogenei, non v'è dubbio che il PDL segna un indiscutibile balzo in avanti rispetto a tutte le volte precedenti, a tutti gli appuntamenti elettorali dell'ultimo periodo, dell'ultimi cinque anni a questa parte. Il che, voglio dire, è motivo di soddisfazione se poi si confrontano questi risultati con quelli del PD che cade vertiginosamente anche qui come altrove, anche se, questo va detto, a supportare il PD soccorre l'Italia dei valori che prende un indiscutibile buon risultato che lo conferma, come dire, ormai lo conferma a pieno diritto come un partito che ormai insomma è in piena concorrenza con il PD, lo supporta da una parte ma lo surclassa dall'altro. Un IDV che poi trova soprattutto nel comprensorio del Vastese, con riferimento anche alle altre zone, della regione, una sua roccaforte, un suo punto territoriale di riferimento forte. Quindi l'IDV che qui a Vasto prende intorno al 20% si avvicina proprio di misura al PD può accampare qualche pretesa anche a livello amministrativo, comunale? Il fatto che l'Italia dei valori stia per superare, abbia quasi superato il partito democratico certamente porrà problemi anche alla maggioranza che regge il comune di Vasto ma anche qua è tutto un altro discorso, un discorso tutto da vedere e da verificare. Certo è che evidentemente la penna, ammesso che sia ancora nelle condizioni di governare questa città, non potrà non fare i conti con l'Italia dei valori e con il risultato di tutta evidenza che ha riportato.